FABRIASCA Incidente oggi, venerdì 29 giugno, poco dopo le 18.30, sulla strada provinciale 35, comunemente conosciuta come Favriasca. Una motocicletta KTM Adventure 1050, condotta da un 49enne di Favria, ha tamponato una Renault Clio con a bordo una 57enne di Rivarolo Canavese. Dall'impatto il paraurti della vettura si è staccato e la moto è caduta. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa e i carabinieri di Rivarolo Canavese. Il Centauro è stato accompagnato all'ospedale di Cirie per controlli. Sì, andate finocorniando, sì, ebrei.